Le aure sono di molti tipi. Troppe cose fantasiose sono state dette in merito, particolarmente dalla comunità New Age oggi. Ciò che chiami aura è persino più superficiale della pelle. Se ti concentri sulla superficie, avrai un'aura pessima. Ogni sostanza sul pianeta ha un certo campo di energia attorno. Ovvero, ciò che vedi come sostanza sul pianeta è in realtà energia. È un fatto scientifico che l'interesistenza sia energia. Una parte dell'energia si è manifestata in un certo livello di riverbero che la rende una forma fisica. Un'altra parte dell'energia non si manifesta in una forma fisica, ma ha comunque una forma. Quella forma, che non è ancora fisica, o rifiuta di diventare fisica, ma comunque mantiene una forma, quella è un'aura. O viene chiamata un'aura. Le aure sono di molti tipi. Uno può avere un'aura dal nero come la pece fino a un'aura bianco puro. Tra queste due ci sono un milione di sfumature. Essenzialmente, lo stato fisico, mentale, emotivo ed energetico di chi sei adesso in un certo modo è rappresentato dalla tua aura o è visibile attraverso l'aura. Troppe cose fantasiose sono state dette in merito, particolarmente dalla comunità New Age oggi. Molto di questo è fantasia, ma c'è della sostanza. Non penso che ti dovresti preoccupare di queste cose. Non cercare di vedere l'aura delle persone. L'aura è la periferia della persona. Vorrei che osservassi un po' di più l'essenza dell'essere piuttosto che osservare la superficie. La superficie è per i dottori perché vogliono aggiustare qualche parte fisica che potrebbe stare male in qualcuno. la superficie non dovrebbe essere l'interesse di un ricercatore spirituale. È più superficie della pelle. Ciò che chiami aura è ancora più superficiale della pelle perché è ancora più all'esterno. potrebbe avere se uno ha la necessaria intuizione potrebbe darti un certo accesso alla natura della persona ma stai solo osservando la struttura psicologica, emotiva e fisica dell'essere umano. è meglio che le persone sul sentiero spirituale ignorino l'aura, la tua e quella di chiunque e si concentrino sull'essenza. se sei concentrato sull'essenza avrai un'aura meravigliosa se ti concentri sulle superficie avrai un'aura pessima quindi non continuare a osservare l'aura degli altri e la tua. è ora che tu osservi l'essenza di questo e di quello se osservi l'essenza di questo allora naturalmente vedrai l'essenza di tutto perché nell'essenza questo e quello non esiste nell'essenza solo questo esiste in superficie, questo e quello, esiste sai, la gente ha detto la bellezza è profonda quanto la pelle sì, un certo tipo di bellezza è profondo quanto la pelle non ti piacerebbe qualcuno con la pelle scuoiata se vedessi la pelle scuoiata di qualcuno non penseresti che sono belli anche se sono la stessa persona in quel senso, sì ma l'aura non è nemmeno profonda come la pelle quindi non vale la pena consacrarci tempo se diventi consapevole dell'essenza la superficie potrebbe essere visibile per te ma che tu cerchi di vedere e leggere l'aura delle persone è una cosa stupida da fare sprecherai la tua vita cercando di fare cose simili se sei consapevole se la tua percezione è potenziata potresti vedere delle cose va bene vedere cose che sono qui se inizi a vedere cose che non sono qui ti stai laureando dall'ashram al manicomio se molti di voi vanno in quella direzione possiamo trasformare l'ashram in un manicomio sì quindi è molto importante vogliamo mantenerlo come un ashram vuoi trasformarlo in un manicomio? no vogliamo mantenerlo come un ashram quindi per favore se vuoi mantenere questo come un ashram devi essere concentrato sull'essenza non sulla superficie troppa superficie significa che renderemo il posto un manicomio ogni tipo di matti che credono di essere spirituali ce ne sono troppi così sul pianeta sono il più grande deterrente alla ricerca delle persone di una qualsiasi spiritualità a causa di troppi matti così persone sagge e che sono un po' più sensate non vogliono avere niente a che fare con la spiritualità quindi per favore non renderlo un manicomio se devi andare ti promuoveremo ma non trasformare il posto in un manicomio grazie a tutti Grazie a tutti.